Ciao, io sono Mirko Lanfranchi, io sono una persona che viene dal lavoro dipendente, lavoravo nel mondo del golf come impiegato, come segretario sportivo. Io ho lavorato tanti anni nel mondo del golf e questo mi occupava tutto il giorno, lavoravo dalle 10-12 ore al giorno, tutti i sabati e le domeniche, tutti i giorni di festa e avevo una vita molto impegnata. E questo chiaramente mi faceva riflettere, dicevo, ma caspita, ci sarà la possibilità di avere un'alternativa, di potermi costruire un futuro migliore, più libero, dove potrò stare a contatto con la mia famiglia, dove non dovrò sacrificare tutte queste ore in un posto e dove potrò anche magari guadagnare per quello che valgo, senza ricevere sempre uno stipendio fisso che non cambia la vita. E così ho scoperto Forever Living, un'azienda eccezionale, un'azienda che veramente cambia la vita alle persone, che dà la possibilità a tutti di costruirsi un'attività in proprio, senza costi né rischi e che dà dei risultati eccezionali, come è successo a me. Infatti io ho cambiato completamente il mio stile di vita, ho raggiunto l'indipendenza economica, ma oltre questo ho la possibilità di stare con la mia famiglia quanto tempo voglio, quando voglio, la possibilità di lavorare in maniera più intelligente e di non avere un posto di lavoro fisso. Posso lavorare su tutta Italia, anzi posso lavorare su 158 nazioni diverse e questo fa la differenza, anche senza spostarmi di casa perché posso utilizzare le tecnologie come Skype e Internet o Facebook per poter costruire la mia attività in tutto il mondo. Quindi questo è stato un grandissimo cambiamento, una grandissima miglioria della mia vita che io consiglio a tutti, ecco perché ti faccio vedere questo video, perché mi piacerebbe che anche tu possa avere il beneficio che ho avuto io. Uno dei tanti miei obiettivi inoltre è quello di poter aiutare e dare un futuro migliore a mio figlio, che è un figlio, un bambino nato speciale che ha bisogno di attenzioni e quindi questo Forever me lo sta concedendo, mi sta dando questa opportunità di lasciare un'attività solida, ereditizia anche a mio figlio, perché l'attività è ereditabile, è una cosa molto importante, la possibilità di lasciare qualcosa di sicuro alle proprie future generazioni. L'azienda si chiama Forever ed è il più grande coltivatore e produttore di prodotti a base di aloe vera pura al 100%, è un'azienda che è in 158 nazioni, è un'azienda molto solida, è un'azienda che ha dei fatturati incredibili, parliamo di cifre intorno ai 3 miliardi di dollari all'anno e il fatturato cresce continuamente anno dopo anno, adesso in questo momento in Italia siamo a circa il 36% in più di fatturato rispetto all'anno scorso e la pianificazione dell'azienda è quella di quintuplicare il fatturato entro i prossimi 5 anni, quindi c'è un sacco di lavoro da fare per tutti, la possibilità di crescere, la possibilità di migliorarsi, la possibilità anche di avere una seconda entrata, perché no, che non fa male a nessuno o la possibilità di cambiare completamente la propria qualità di vita. I benefici sono tanti di questa attività, come già ti ho detto, tra i quali anche la possibilità di viaggiare, perché l'azienda regala due viaggi all'anno gratuiti con dei soldi da spendere che ti vengono dati chiaramente in base al lavoro, alla tua attività. Inoltre l'attività dà 5 entrate diverse, cosa che le attività tradizionali normalmente non ti danno? E quali sono queste entrate? Sono la promozione di prodotti fatta con il passaparola, quindi fatto con quello che fai già normalmente con i tuoi amici quando parli dei prodotti e dei servizi che usi, e in questo caso lo fai gratis, invece Forever ti dà una provvigione che cresce, che parte dal 15% fino al 48%. Poi la seconda entrata sono la distribuzione indiretta, ovvero delle provvigioni che ti vengono date sulla base del lavoro dei tuoi collaboratori, delle persone che tu decidi che vuoi inserire nel tuo gruppo, i tuoi collaboratori ti aiutano ad aumentare il fatturato, loro avranno un guadagno ma anche tu avrai la possibilità di guadagnare con delle provvigioni che ti riconosce l'azienda direttamente. La terza entrata sono le Royalty, che sono delle entrate importanti e editabili sulla base sempre del lavoro del tuo gruppo che fai a livello nazionale o internazionale. La quarta entrata è il programma auto, quindi un'entrata fissa del 400-800 Euro al mese che ti vengono date per comprarti la macchina ma che poi puoi utilizzare anche per altre cose per quello che vuoi, ad esempio per mandare i tuoi figli a scuola in una scuola migliore, una scuola privata. E la quinta entrata è la condivisione degli utili aziendali, perché l'azienda ti dà la possibilità di partecipare all'utile della società, dell'azienda a livello nazionale, dandoti una percentuale su questo in base al fatturato che tu generi con il tuo gruppo, con le tue persone, con i tuoi collaboratori. Quindi c'è la possibilità di fare carriera, la possibilità di crescere per tutti, le carriere sono aperte a tutti, i guadagni sono sempre in crescita, l'attività è per tutti, uomini, donne, persone che abbiano compiuto 18 anni e che siano in regola con la fedina penale e quindi anche tu puoi essere parte della nostra grande famiglia. E in più noi ti diamo la formazione, ti aiutiamo a formarti, a imparare, chiaramente perché è un'attività nuova e diversa dalle attività tradizionali, ma proprio perché è diversa dall'attività tradizionali, ti dà dei risultati che tutte le altre attività non ti possono dare ed è molto più difficile averli con le altre attività. Invece con Forever il sistema è erodato da 38 anni perché l'azienda esiste dal 1978, quindi c'è una grande esperienza dietro attraverso tutti i manager che ci lavorano e quindi puoi imparare, puoi seguire un metodo strutturato che noi ti insegniamo dove lavoriamo insieme e ti seguiamo passo passo, noi tra l'altro abbiamo aperto anche un centro di formazione apposito per aiutare tutte le nostre persone a raggiungere il successo e tutto quello che vogliono e quindi ti invito a valutare bene questo video e se poi sarai interessato ti manderò anche successivamente altre informazioni di approfondimento dove potrai anche vedere un film filmato e conoscere meglio l'azienda. In questo momento ho terminato, ti ringrazio dell'attenzione e a presto, buona giornata, ciao!